Amiche e cari amici, ho il piacere di vedere come mi seguite nel mio canale Sant'Encian di Sprecher, purtroppo è da molto tempo che soggiaccio a un silenzio radio, perché sempre che arrivo a fare un programma è sempre quest'ora o più tardi, che là devono essere le 23 che voi mi ascoltiate dal vivo prima, comunque grazie per seguirmi, per rimanere iscritti e sarò breve. Vi voglio comunicare che nel mio canale di Sant'Encian sto caricando tre video, sono sostanzialmente tre tutorial di gastronomia, il primo che ho caricato è stato risotto al sugo per pranzo, che dura abbastanza tempo, credo che duri 13 minuti e 53 con effetti speciali e tutto, come piace a voi guardare giustamente. Poi colazione mate e tostate con formaggio spalmato sopra che dura, si sta caricando ancora, però dovrebbe durare 14 minuti e 39, faccio dei video larghi, vi voglio viziare e poi giusto un'ora fa si sta finendo di prestare, preparare proprio, perché intanto si sta caricando adesso che ci metterà 34 minuti, colazione mate e tostate con formaggio spalmato sopra, già si è caricato il tutorial di cucina domestica risotto al sugo per pranzo e si sta invece, si è fatto al 90%, sto editando il video facendo la merenda del pomeriggio con un bel bicchiere di latte e un alfajoro, quindi un video è già caricato in YouTube nel mio canale Sant'Encian, uno si sta caricando e magari finirà di caricarsi in 30 minuti in 30 minuti e un altro che ancora si deve editare e si finirà di editare magari fra 10 o 20 minuti, quindi fra 30 minuti ci avrete due video nel mio canale Sant'Encian e fra un'oretta magari potrete vedere ben tre video. Grazie a tutti per seguirmi, forse più tardi farò un altro programma radio. Io non so se comprarmi un microfono per il computer o una webcamera con microfono, mi piacerebbe la webcamera ma costa di più. Gli auricolari con microfono non mi piacciono perché già ho degli auricolari e poi sono scomodi, se uno vuole parlare non è che si deve anche ascoltare. Beh, grazie per spendere il vostro tempo a seguirmi. Vi volevo solamente brevemente comunicare che ci sono altri video nel mio canale YouTube Sant'Encian. In totale devo avere 82 video, 6242 visualizzazioni. Ah no, sono 82 iscritti che ho. Di video devo vedere perché non so quanti, gestione video, vediamo di aprire. qui. Ho 80 iscritti, forse 76 video caricati, 80 iscritti e 6242 visioni. Grazie a tutti per seguirmi e se volete nel canale di Sprecher per favore iscrivetevi. Io non mi posso iscrivere a tutti i canali che si sono iscritti nel mio perché ho superato il limite di iscrizioni, però mi farà piacere avervi come iscritti. Poi io devo studiare di eliminare le mie iscrizioni ai canali che non sono iscritti al mio e invece di iscrivermi nei canali che si sono iscritti al mio. Però è una cosa larga, perché io voglio corrispondere con chi si iscrive con me, chiaramente mi sembra giusto. Però a volte ti mandano suggerenze e io non so esattamente di dove siano i canali nei quali mi iscrivo. Quindi mi piacerebbe, se voi siete di Italia, di Roma, di Casalpalocco, di mandarmi dei privati, così so a quali canali iscrivermi. Quindi vi ringrazio di tutto, di seguirmi. Adesso vedo la Lucina che dice che sono live, infatti c'è il titolo del programma e ho la tentazione di non staccarmi più di qua dal cellulare, però non voglio abusare della vostra pazienza, che mi ascoltate adesso dal vivo e poi registrato. Quindi, ecco, adesso in questo momento si sta chiudendo, ecco, già si è finito di editare il video e in questo momento lo voglio vedere in anteprima nel mio computer. Si sta aprendo? E quello che ascoltate nel sottofondo è il mio video, che già è stato editato e lo sto vedendo nel riproduttore mediatico. E adesso lo caricherò. Si tratta di facendo la merenda del pomeriggio con un bel bicchierone di latte ed un alfajor. E' un bicchierone di latte? Il bicchierone di latte. Beh, vabbè, se volete vedere il video andate nel canale di YouTube San Ten Chan, lo potete riconoscere perché ci sta il mio profilo. Ciao e grazie per seguirmi.